Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nat e questa è una nuovissima pillola di Gossip. Amici miei, Sonia Bruganelli e Paolo Bonoli stra poco non vivranno più insieme. Ebbene sì, lo ha annunciato proprio l'opinionista del prossimo GFVip, che ha svelato anche i motivi di questa scelta. Vi anticipo subito, nessuna crisi, nessun problema. Una decisione che ovviamente porterà dei cambiamenti anche per le figlie, Silvia e Adele. Ma ora vi racconto tutti i dettagli sulla vicenda. Prima di proseguire vi invito come al solito a supportare le canali, mettete il nome like, registratevi, cliccate, indicatevi e fate tutto quello che volete. Insomma, condividete. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis a breve vivranno in case separate, ve l'ho già detto, ve lo ripeto. Lo ha rivelato proprio l'opinionista in una recente intervista al Corriere della Sera. Non c'è area di divorzio in casa Bonolis, e sia chiaro. Anzi, anzi, la scelta di vivere separati, secondo Sonietta, è il segreto per mantenere vivo il matrimonio. A me mi pare un asciugno, vabbè. Questo almeno è quello che ha dichiarato in queste ultime ore la Bruganelle. Nel dettaglio la nostra Sonia ha spiegato che lei e il marito Paolo vivranno in due palazzi differenti. Ebbè, sono capace anch'io, quando ho tanti soldi mi compro due palazzi, ma compratevi due... Vabbè, curioso il fatto che nonostante questo saranno comunque vicini di casa. Oh, beh, allora? Visto che i due appartamenti saranno in pratica comunicanti. Bene. A dividerli solo un terrazzo. Si incontreranno a metà strada. Un cambiamento che coinvolgerà ovviamente anche Silvia Adele, due delle figlie della coppia. Adele andrà a vivere con la mammina, mentre Silvia rimarrà nella casa con Paolino. Ma perché separate le sorelline? Insomma, già si sapeva che Sonia e Paolo dormivano in stanze separate, come fanno molti VIP del resto. E questa decisione di avere appartamenti separati forse non stupisce neanche più di tanto. Ebbene sì, perché prima di gridare allo scandalo cerchiamo di guardare la cosa a 361 gradi, uno in più. A differenza delle coppie VIP scoppiate in questa calde torrida estate 2022, non c'è bisogno che ve le ricordi, quindi Sonia e Paolo cercano di mantenere vivo il loro matrimonio con questa scelta. Ebbene sì, forse non tutti lo ricordano, ma i due sono sposati dal 2002, praticamente 21 anni. Per Bonolis si è trattato del secondo matrimonio, visto che in precedenza è stato sposato con l'americana Diane Zoller, dalla quale ha avuto i figli Stefano e Martina. Dal matrimonio con Sonia invece sono nati Davide, Adele e Silvia. Proprio Davide ha esordito quest'anno in Serie C, giusto per fare un po' di gossip con la Triestina. Ora, sulla maglia ovviamente compare il nome Bonolis, il cognome Bonolis, e questo non può che fare sparlare i detrattori che accusano un ragazzo di essere un raccomandato. Vabbè, si sa che i detrattori devono sempre detrarre qualcosa. In sua difesa ovviamente è scesa in campo Mamma Sonia. Non gli devi dire niente, Sonietta. Sono note anche le problematiche dell'altra figlia Silvia, che soffre sin dalla nascita di disabilità motori e cardiopatia. Ebbene Silvia, che ora ha 19 anni, sta imparando ad essere autosufficiente. Per questo, mammina Sonia la sta facendo lavorare nella sua azienda, la SDL, facendole fare le fotocopie, le foto, per le schede dei candidati. Insomma, la mantiene impegnata e fa bene, secondo me. Intanto, intanto, comunque giusto per rimanere in discorso, a breve la nostra Sonietta. Una cosa che nessuno di voi sa. Siederà ancora nella poltrona di opinionista al GFVip. Ma va, non l'avrei mai detto. Guarda, questa volta accanto a Orietta Berti. Proprio riferendosi alla cantante, la Bruganelli non ha nascosto la sua ammirazione e la sua stima per l'Oriettona nazionale. Questa nuova experience per Sonia sarà sicuramente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, dove non erano mancate le frizioni. Che ve lo dico a fa' con Adriana Volpe, The Fox. La Bruganelli ricorda ancora il litigio con Signorini avvenuto in diretta a TV, ma ce lo ricordiamo tutti. Un classico esempio di TV. Uno sconto che paradossalmente li ha avvicinati di più. Se lo dice lei. In quell'occasione proprio Sonietta ha scoperto quel buon Alfonsino. Dietro la maschera da eccentrico e spietato nasconde invece un lato tenerone, un patatone, un pacioccono, un trottolino amoroso. Insomma, forse non tutti lo ricordano, ma nel 2009 Sonia è stata opinionista anche alla fattoria, allora condotto da Paola Perego. Ebbene, ebbene, non fu un'esperienza felice per la moglie di Bonolis, questo ha detta sua. All'epoca era giovane e non poteva permettersi di dire ciò che voleva. L'erano imposti molti paletti e gran parte del pubblico non la reputava credibile. Ebbene, insomma, coi paletti non puoi essere te stesso. Insomma, tutto il contrario di quello che è accaduto al GF Deep. Sei bene. Ma la domanda che sorge spontanea è Come mai, cara Sonia, hai deciso di tornare anche a questa settima edizione del GF Deep? Se vi ricordate, lei stessa proprio dice Oh no, l'ho fatto una volta, basta, mi è bastato, non lo farò più. Ebbene, eccola qua. La Bruganelli ha tal proposto Ha spiegato che in questo momento ha bisogno di leggerezza. Non mi sembra una risposta plausibile, almeno secondo me. Comunque fate vobis. Ed appunto fare l'opinionista nel reality di Canale 5 Le dà l'opportunità di essere leggera. Ma se litighi con mezzo a mo... Vabbè, vabbè. Non serve molto per essere preparati. Ah, non devi studiare niente. Basta farsi truccare e seguire dei time prima della diretta. Parola di Francesca... Parola di Sonia Bruganelli. E mi raccomando, non parole mie, viene da chiedersi quanto guadagnerà per questo duro lavoro. Voi che cosa ne pensate? E soprattutto la domanda sorge spontanea. Ma anche secondo voi, vivere separati è davvero il segreto per fare funzionare un matrimonio? Insomma, fatemelo sapere con un... Eh, calla! Scusate il mio gatto. Cosa c'è? Ah, vuoi andare a vivere da solo anche te? Ah, per... Ah, sì, per migliorare il rapporto gatto-uomo. Sì, certo. Vuoi andare a vivere da solo? Va bene, io non ho problemi. Ovviamente ti trovi un lavoro, ti paghi l'affitto e devi comprarti le crocchette. Perché se vivi da solo, io le crocchette non te le passo. Come il mantenimento? Ma no, ma non stiamo mica marito e moglie, non stiamo mica divorziando, eh. Ma cosa vuoi? Ah, no, ti devo mantenere, però te ti fai i cavolini di bruciare il tuo. Ah, interessante. E magari voleste anche, non so, un attico... Non so, in una città d'arte, magari, eh. Ah, in te le... Guarda, sta a sentire. Torna subito a casa, se no stasera niente crocchette, eh. E poi, comunque, scusa, sto facendo un video, fammelo finire. Ciao, ciao, nia, 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 nia. Hai capito? Si allargano questi gatti, eh. Adesso voglio andare a vivere la sua, vabbè, vabbè. Lo so, era un po' fuori argomento. Comunque, raga, fatemi sapere che cosa mi è piaciuto. Ma anche se, secondo voi, questo fatto... Io posso capire il fatto di dormire in stanze separate, perché magari, sì, marito e moglie hanno abitudini diverse, no? Come l'ha letto anche la Maria dei Filippi, col Costanzo. No, Costanzo sta tutta la notte a guardare la tele. E la Maria non riesce a dormire, quindi deve stare in una stanza a parte. O magari... C'è il marito che russa, c'è il moglie che russa. Ebbè, cose che capitano, le so bene anch'io, però addirittura in due appartamenti separati. A parte il fatto che deve avere un sacco di sgay, perché due appartamenti costano il doppio, praticamente. Non è two is male che one, no, no, two is dope che one, insomma. Non so, a me sembra una mincata colossale. Comunque, oh, contenti loro, alla fine, chi siamo noi per dirgli fai bene, fai male, devono stare bene loro. Comunque io sto bene a vivere con la mia moglietta. Comunque, vai. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate a tal proposito. Mi raccomando, commentate come se non ci fossero domani. Per il resto, che dirvi? Vedete un bel live, registratevi al canale, cliccate, cliccate e condividete. Ci vediamo alla prossima. Ciao, bedazzi. Mua!